Innovazione verso tradizione non vuole essere se non un tema provocatorio, perché in effetti non c'è contraddizione laddove in tradizione si evidenziano i valori e nell'innovazione la capacità di capire e di leggere il mutamento dei tempi e quindi la necessità del cambiamento e la capacità quindi di adeguarsi. Ecco perché si parla di volontariato, di terzo settore e di impresa sociale, senza entrare nel merito e nel significato dei tre, però sono valori, intrinse e complementarietà che possano naturalmente risolvere i problemi del nostro tempo. Siamo in un momento di grossa crisi, le persone che oggi abbiamo invitato sono persone non di tradizione contro innovazione o viceversa, sono tutti innovatori nel senso che hanno sperimentato attraverso appunto la loro vicenda di organizzazione, l'ha anche capacità di superare la crisi che in questo momento incombe tutto la mancanza di risorse e quindi la capacità di mantenere la propria identità pur tuttavia la capacità anche di rispondere ai bisogni che oggi è in comodo, come dicevo sul nostro tempo. Se questo sarà possibile e non può non essere possibile perché la storia ha insegnato come dal volontariato si siano provocate, si siano promosse operazioni di capacità di cooperazione, dalla cooperazione si sia passata all'impera sociale o comunque la diversità naturalmente dei ruoli, di come pubblico e privato possono insieme convivere e anche capire quali sono le priorità del tempo e solo attraverso un lavoro di sinergia e di una sussidiarietà veramente orizzontale e circolare possano naturalmente essere portati avanti insieme fuori da ogni autoreferenzialità appunto la soluzione di questi problemi affrontandoli tutti insieme. Il convegno aveva questo scopo ma non solo, come dicevo fin dall'inizio parte da lontano e vorrà aggiungere anche, lo assumo come impegno proprio per l'ottobre, anche quello della valutazione proprio dei risultati che ogni azione degli organismi preposti deve trovare, deve avere la capacità e anche l'umiltà naturalmente di confrontarsi per capire se la propria azione è significativa e incide sul territorio. Grazie.